Dal pesce al filosofo. Questo è un bellissimo libro di Homer Smith, pubblicato a Boston nei primi anni 50. Homer Smith è stato un grande fisiologo. La maggior parte delle cose che noi pensiamo di scoprire in laboratorio si trova nei suoi libri, uno più bello dell'altro. In questo c'è scritto che ciascuno di noi non è quello che mangia, ma è quello che il suo rene è capace di conservare. Ma a cosa servono i reni? A produrre urina, direte voi, giusto? Ma il rene ha tante altre funzioni ancora. È per il rene che noi viviamo qui, a dispetto dell'ambiente. A noi sembra normale di vivere sulla Terra, ma la Terra è ostile alla vita, almeno lo era, ma per certi versi lo è ancora. Noi siamo fatti per due terzi di acqua e le nostre cellule sono immerse in un fluido che ha e deve avere una composizione ben precisa. Ecco, la funzione principale del rene è proprio questa, di mantenere la composizione del fluido che bagna le cellule precisa. Basta un poco più di sodio, Na+, o un po' meno, perché il cervello ne soffra. E il potassio? Se il potassio aumenta, si ferma il cuore. Non preoccupatevi, c'è il vostro rene e voi non lo sapete neppure. È il rene che ci dà la capacità di accedere. Il rene poi sa straordinariamente eliminare tutto quello che è in eccesso. Noi possiamo prendere quanto c'è in eccesso, acqua e sale per esempio, e il rene elimina ciò che non serve e lo fa minuto per minuto con una precisione che nessuna bilancia di nessun farmacista sarebbe in grado di fare. È il rene quindi che ci permette di riuscire a superare, avere il superfluo. Ma se il rene smette di funzionare improvvisamente, noi moriamo nel giro di pochi giorni. È perché le sostanze di scarto che noi ogni giorno produciamo sono tossiche. Il rene si adatta anche molto bene al danno. Possiamo anche avere una riduzione della funzione del rene fino all'80-85% e stare ancora abbastanza bene. E dopo c'è la dialisi. Ma la dialisi non sostituisce tutte le funzioni del rene. Non quella, per esempio, di contribuire a produrre globuli rossi attraverso l'eritropoietina, né quella di proteggere le ossa con la vitamina D. Senza i reni saremmo un po' rachitici. Quante persone vivono con la dialisi? Circa due milioni di persone al mondo. E per loro spendiamo più di mille miliardi di dollari. Una cifra pazzesca. Enorme. Le persone in dialisi sono soprattutto negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone, in Australia. Il 90% dei dializzati è lì. Ma nell'altra parte del mondo, nei paesi emergenti, la dialisi è poca o nulla. Ma lì vivono 5 miliardi di persone. Per un certo verso, la dialisi è per i paesi ricchi. E fare in modo che questo non sia più così è stata una grande sfida per tutto il mondo e per tutti noi. Ed è stato questo l'impegno di tanti anni di ricerca. Ma come si arriva alla dialisi? Vi racconto una storia. Mario ha 50 anni. È sempre stato bene. A un certo punto, fa la visita di leva quando era giovane, gli trovano del sangue nelle urine, ma nessuno ci fa caso. Andando avanti negli anni sta sempre bene fino a che a un certo punto, un bel giorno, comincia a urinare tanto, anche di notte. E ha forti mal di testa. Non ne può più. Va in farmacia per prendere un analgesico e il farmacista gli prova la pressione. A 200 su 110. Ma come è possibile fa lui? Ho sempre avuto la pressione normale. Il farmacista lo invita ad andare a pronto soccorso. Va al pronto soccorso, gli fanno una serie di esami a un'insufficienza renale grave, dicono i medici. E dopo due settimane va in dialisi. Quattro ore al giorno, tre giorni su sette, per tutte le settimane del mese, per tutti i mesi dell'anno. e sarà così fino a quando non ci sarà per lui un trapianto, un trapianto di rene. Questa è una storia un po' come un'altra di ipertensione, di diabete, che alla lunga danneggiano il rene. E quindi si è pensato quante persone possono avere una serie analoga. Beh, sappiamo che il 10% della popolazione mondiale ha qualche forma di danno renale. che se trascurata progredirà nel tempo. Ed è quindi molto importante pensare a questo. Di solito sono persone che hanno proteine nelle urine, soprattutto albumina. E noi sappiamo dai nostri studi che l'albumina, anche se poco è presente nelle urine, prima o poi darà un danno al rene e poi anche al cuore. per fortuna il rene però si può proteggere. Una bellissima notizia che voglio condividere con voi ed è un cambiamento rispetto a prima, si pensava che ci fosse solo la dialisi, invece c'è la possibilità di proteggere il rene. come? Con farmaci che abbassano la pressione e che fanno parte della categoria degli inibitori dell'enzima di conversione per l'angiotensina. Parolone molto difficile. Sono farmaci che vengono utilizzati normalmente, come si dice in gergo, antipertensivi e proteggono il rene dal deterioramento della funzione, ma proteggono alla lunga anche il cuore dall'infarto e dello scompenso. È partita proprio da qui, da Bergamo, questa ricerca che ha visto un grande sforzo collaborativo tra ricercatori, clinici dell'Istituto Mario Negri e del nostro ospedale. E da adesso questa terapia è usata in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, che di solito vengono prima di noi. Come abbiamo fatto? Applausi Come abbiamo fatto a scoprire questa terapia che protegge il rene con l'aiuto degli animali? Senza topi e ratti non c'è progresso, si ferma la medicina, bisogna che ne siamo consapevoli, che ognuno di noi lo sappia. Grazie a queste piccoli roditori abbiamo capito il rapporto che esiste tra la perdita della normale funzione del rene, il passaggio di albumina, che è tossico, e la presenza di infiammazione che è il primo stadio della malattia renale. Dal topo all'uomo poi il passaggio è stato breve. Quei farmaci che erano efficaci nell'animale sono stati efficacissimi nell'uomo. se un paziente non viene trattato la riga rossa, la sua funzione renale si deteriora nel tempo, si riduce fino al punto che ha bisogno di dialisi o trapianto. Con i farmaci che abbiamo studiato e che abbiamo scoperto la funzione renale viene mantenuta, non si ha una riduzione della funzione renale, almeno per i primi tre anni e cosa che non ci aspettavamo la funzione renale addirittura migliora dopo tre anni. Perché questo? Perché è una questione di cellule staminali. Con questi farmaci noi riusciamo a mantenere il patrimonio di cellule staminali che ciascuno di noi ha nel proprio rene. Ce ne sono dappertutto e le abbiamo in tutti gli organi, le abbiamo trovati in tanti distretti. A Bergamo le abbiamo viste nel rene, le abbiamo studiate negli animali, le abbiamo trovati lì, le abbiamo trovati anche nell'uomo. Le abbiamo isolato, come si dice in gergo, le abbiamo caratterizzate, abbiamo visto che cosa producevano, abbiamo visto qual era il loro potenziale. Con i farmaci che proteggono il rene abbiamo mantenuto l'integrità di tutte queste cellule staminali. Il risultato è stato che si è fermata la progressione malattia renale e il rene giorno dopo giorno si è riparato e così la funzione renale è migliorata. Certo, per curare la malattia renale, per fermare l'appropriazione della malattia renale bisogna partire presto, dopo e troppo e troppo tardi. E come si fa? Basta un semplice esame delle urine. Basta vedere se abbiamo proteine, soprattutto albuina, nelle urine. Se l'abbiamo questo è un segnale, bisogna intervenire. Ma quasi nessuno lo fa, a urine non ci si pensa. C'è poca sensibilità per le malattie renali. Se voi pensate il rene è negletto, anche nel linguaggio popolare, si dice cuore di leone o uno che ha fegato, ma non c'è niente di simile per il rene. E nella Bibbia per un'infanità di volte si parla di sangue e di cuore, ma di rene una sola volta. Quando Dio, per giudicare gli uomini, guarda i loro reni, perché i reni erano considerati la sede del temperamento, delle emozioni e anche delle virtù. E poi via via nessuno più parla di rene nella letteratura, fino a Shakespeare, fine del 1500, le allegre comali di Windsor. Terzo atto, Falstaff, parla di rene e rivolgendosi a colui quale pensa che sia un gentiluomo che è Master Brook, gli dice la sua disavventura. Falstaff si era nascosto in una cesta di panni sporchi che era stata buttata nel Tamigi e rivolgendosi al gentiluomo dice a man of my kidneys, letteralmente o uomo dei miei reni. Cioè una persona come me, col mio temperamento e forse anche per la mia corporatura. se non fosse per il rene saremmo ancora negli stagni e saremmo pesci o ranocchi. E' il rene che ci ha permesso di evolvere e ha permesso a certi animali di lasciare gli oceani e i fiumi per vivere sulla terra. Senza reni qui sulla terra non ci sarebbero i filosofi. Grazie per la vostra attenzione. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Grazie.